E' un esercizio veramente di altissima qualità, quindi questa finale era meritata così come era meritata l'ovazione di questa sera. Un altro mostro con Cedimino. Marian Dragulescu, il 35enne rumeno, grandissimo campione, ha vinto di tutto e di più. E in particolare al suolo. In particolare al suolo. E al volteggio. Proprio agli scorsi europei di Berna aveva vinto un'altra medaglia, un argento splendido. Insomma non finisce mai di stupire. Doppio Zucara, quindi doppio salto con doppio avvitamento. Passano gli anni ma la grande classe è sempre lì. Due avvitamenti a mezzo, accidenti, arrischiano tantissimo. E anche qui un'esitazione ma non erano noccioline quelle che ha proposto. Ora successioni di due salti sempre avvitati e sempre salti avanti. Una Thomas, ovvero Sian Twist e mezzo. E ora la parte finale. La rondata. E due avvitamenti per concludere. Ha giocato sulla sicurezza finale solo due avvitamenti ma prima ha presentato ancora grandi cose. sebbene qualche sbavatura di esecuzione non sia scappata. D'altronde la caratura di questo atleta non è comunque messa in...